ehi ragazzi ciao a tutti la nicca bentornati qua su minecraft bentornati sul real pack 2 allora ragazzi purtroppo al momento non c'è lupettina non riesce a problemi di connessione e non solo al momento è pure andata un attimo via perché non si sta sentendo neanche tanto bene sapete col caldo che c'è in questi giorni è comprensibile quindi per ora sono solo in pratica intanto che sono solo e lei non c'è vi dico quello che facciamo oggi perché lei ancora non lo sa perché appunto l'ho pensata all'ultimo momento visto che non riesce ad entrare ragazzi oggi facciamo un regalino a lupetta visto che la cuccia è vuota vorrei andare a prendere un bel cane per lupetta gli avevo accennato che volevo prima o poi prendere un cane ma dato che lei ha sti problemi ne approfitto e lo piglio già oggi così almeno difatti come notate lupetta stava iniziando a sistemare la strada perché questa non gli piace e poi però la connessione gli è crashata e in più il caldo e non si sta a sentire bene dovrebbe arrivare tra poco ma non penso che entri al momento in partita perché sta laggando oltre tutto di brutto allora quindi voi lo sapete ma appena lei arriva non gli dico niente quindi vediamo un po lei ha preparato difatti anche una vedete che ha preparato questo mo lo uso io allora però per prendere per prendere per prendere non so manco che devo fa per prendere un cane o un lupo devo andare a devo andare a prendere la targhetta ovviamente e devo anche le ossa le ossa le ossa dovrei avere un bel po di ossa qui allora innanzitutto ho solo una targhetta se no lo pigliavo anche per me uno ma per quanto riguarda le ossa mo vediamo dove o lo so che c'ho la farm di di scheletri ma lupetta mi ha vietato lupetta mi ha vietato di scendere giù perché dice che mi sta preparando una sorpresa e quindi mi ha vietato di andare giù quindi speriamo che c'ho delle ossa qui da qualche parte a eccole qua perfetto va bene così ok quindi il cibo non mi manca non mi manca credo niente magari un bel letto un letto in più non si sa mai a voglia sì che ci vuole a fare il letto vai ma porto un letto dietro che vado sul sicuro eccola là se non ricordo male con le ossa si piglia il cane no quindi penso che ce l'ho fatta ovviamente ce ne andiamo in giro ragazzi con la moto e insomma col quad no altrimenti tutta sta fatica per cosa per niente tutta la fatica di far tutto ciò per niente no quindi pigliamo il carrellino e ce lo portiamo mi porto pure l'altro no ma uno c'è basta credo vabbè pigliamo pure l'altro va tanto a casa non fa niente comunque non riesco ad agganciarlo non riesco ad agganciarlo forse non c'è abbastanza spazio forse che non c'è abbastanza spazio vediamo se ce la faccio ma eccolo ecco qua va bene quindi usciamo di qua ok quindi ragazzuoli chiudiamo il garage ora poi vediamo se lupetta insomma riesce a rientrare sistemerà la strada come vuole lei lo sa lei come la vuole fare quindi si parte raga dobbiamo andare a cercare questi animali non dico altro perché lupetta non deve capire troppo quindi ancora non è arrivata perché mi ha detto che non si stava neanche a sentire molto bene con sto cavolo di caldo io di fatti raga c'è il climatizzatore acceso ma lei non ce l'ha il climatizzatore quindi col ventilatore giustamente si crepa stava fa un mucchio di caldo già io ci avevo 31 gradi nella mia stanza mo 26 5 gradi in meno ovviamente fanno allora andiamo un po in giro dagli tanto il carburante in pratica è infinito il carburante il carburante proprio aspetta mi sto dimenticando una cosa raga una cosa importante una cosa molto importante allora ah beh innanzitutto si è vero ragazzi non sto utilizzando lo shader non lo sto usando perché spesso e volentieri non vedo niente spesso e volentieri mi da pure problemi comunque mi sto ricordando di una cosa che vorrei sistemare cioè più che sistemare mi serve una cosa siccome vorrei fare altre farm vorrei pigliare questo e se posso me ne faccio pure un altro se posso me ne faccio anche un altro ma eccolo qua 123 lupesi è tornata per caso c'è eccola la ok io sto già registrando no come cacchio si fa la canna da pesca non ti preoccupare lupettina non ti preoccupare riprenditi con sto caldo purtroppo lupetta ripeto ragazzi non si sta senti neanche tanto bene sto dannato caldo no vai tranquilla lupè oltretutto non riesce purtroppo manca ad entrare che la connessione ripeto gli da problemi purtroppo allora non ti preoccupare c'è nick che sa quello che deve fare tu stai tranquilla c'è pensa nick che non ti preoccupare che non il cuccio ti vuole fare una bella sorpresa così sarai contento e non non te lo dico altrimenti che sorpresa però già loro io l'ho detto mentre che non c'eri io l'ho detto loro già lo sanno e poi ti guardi il video appunto poi guardi intanto lo registro allora dove cacchio vado a perché ho preso ragazzi quindi la cosa qua perché in pratica vorrei catturare le anime dei polli perché vorrei fare anche una farm di polli quindi già che vado in giro si è già che vado in giro già che vado in giro cerco di di pigliare un po di polli l'anima dei polli così ce famo pure beh potrei pigliare anche quella dei suini quasi quasi perché non c'è che me ce trovo dammi la tua anima suinello quasi luccio vieni qua vieni qua allora no veramente così facciamo anche ragazzi la farm di di maiali la farm di polli non ci facciamo mancare niente noi con lo spawn raga altro che lo spawn è l'ideale lo spawn è proprio l'ideale vieni qua pucce duccio pucce dove nicca quanti bugenti che ci stanno già ne ho presi quattro allora me ne servono 16 per fare la farm anche le mucche ma si pigliamo tutto tutto pigliamo noi tutto ne sopportato dietro i carrellini mi sopportato dietro tutto fm mucca pazza fermate avanti ci abbiamo anche la mucca pazza la mucca ballerina vieni qua dai vieni qua vieni qua fatte pigliare fatte pigliare agli amori allora raga dai e così facciamo poi più avanti anche farm di cibo alla fine e anche di cuoio in questo caso anche era farm di cuoio ma è comunque sia raga per ora per ora abbiamo questo che è meglio di niente tanto alla fine una gran cavolata allora questi li mettiamo dentro questo dentro questo dentro questo dentro a vedere me porto dietro tutte quelle cose così così non le perdo ok continuiamo quindi per ora il carburante l'ho disattivato raga perché ripeto ne consumava troppo era impossibile con tutta la buona volontà se ne consumava decisamente troppo posto mezzo bocca volo qui va a fuoco tutto che è successo acce della lava ok da questo mezzo passa da per tutto guarda maiale veniva bello dai che poi con te ce faccio la farm vieni qua ok diamo un'occhiata quanti ne ho qua dei maiali 13 no non bastano 13 e 13 ancora un po di maiali ancora un po di mucche e ancora il regalo per lupetta non se trova allora casta fa buio va pigliamo il letto va dov'è che l'ho messo sono qua di notte vabbè che di notte non mostri non ce n'è però almeno che famo dormiamo ok niente per ora non ho trovato ancora quello che stiamo cercando devo comunque non andare nelle zone troppo dove c'è troppo dove ci stanno troppi alberi perché a fa manovra è un po complicato quindi meglio rimanere in zone un po più aperte così è più facile muoversi comunque sia ho preso anche un po di cose giusto per avere qualcosa in più niente andiamo avanti almeno abbiamo quasi necessario per fare poi la farm di maiali devo stare attento a non finire dentro alle buche ovviamente allora allora questo è il villaggio vicino casa vado aspetta aspetta altre mucche altre mucche mucca mucca dammi 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 che è una zanzara che mi vola davanti alla faccia altre mucche mucche o perfetto mucche maiali quello che servono a me quindi vieni qua almeno così già che sto in giro ragazzi risolvo un altro problema no vediamo un po vieni qua a posto direi che con direi che ci siamo direi proprio che ci siamo almeno almeno questa vediamo 17 quindi facciamo così facciamo così o spirito di mucca mentre questo non me ne frega niente quindi lo spirito lo spirito della mucca mettiamo dentro mi serve qualche suino ma qui ci stanno troppi alberi e in mezzo agli alberi non cammino bene direi che ci facciamo un giretto a piedi raga che è meglio senza allontanarmi troppo mi devo segnare sta zona però metto moto ma chiamiamo moto vai così non mi perdo così so che la ritrovo qua la mia il mio mezzo allora mi serve tu maialetto bene e ci siamo o la gallina o mi servi anche tu perché anche di te voglio fare una farm voglio fare la farm anche di galline quindi pigliamo gli spiriti di gallina eccolo qua l'ultimo maiale o almeno quello buono ok quindi vediamo un po quanto meno dov'è quanto meno abbiamo anche l'essenza del maiale lo spirito anzi lo spirito del maiale ce l'abbiamo pure manca quello di gallina mi mancano 12 galline ma vabbè allora quantomeno raga ho trovato questo quindi ci abbiamo anche questi abbiamo anche lo spirito della gallina a posto direi che meglio di così l'unica l'unico problema è che praticamente quello che cerco ancora non l'ho trovato adesso mi dedico al cento per cento a cercare quello in pratica ragazzo più che altro tornate indietro non ho trovato niente non ho trovato quello che stiamo cercando è terribile e sono sicuro che in giro ci stanno perché qualche volta li ho visti teoricamente anche qua potrei trovarli in questa zona speriamo perché nell'altro bioma niente questo è un altro per non far capire alla diretta interessata quello che cerco e speriamo finalmente è dire che di qua ci sono passato finalmente non ci credo non ci credo non ci credo finalmente erano più vicini del previsto molto più vicini allora vieni qua bello del zio da cacchio vai ora che t'ho trovato te ne vai ale ce l'ho fatta alzati abbassati alzati abbassati alzati abbassati funziona buono e non è non è un robot no bello però che fai ehi non fa queste cose zozze andiamo a finalmente regalino per lupetta o mamma mia regalo guarda la ce n'è un altro a proposito vero e vero 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 e come cacchio chiamiamo ah già e come lo chiamiamo lo stavo dimenticando aspetta vieni qua che devo pensarci fammi indovinare no non devi è un essere enorme è un essere enormi con zampe enormi ha quattro zampe ha un colorino rosso nooo è bianco sbaglio è un animale enorme è un bestione non lo so è un cane no è un bufalo ma io a te non ti regalo di sicuro un cane ma ti pare non mi viene nessun nome whisky 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 ma io non lo so scrivere whisky andiamo che poi ti do da bere un po di cognac perché se bevi whisky whisky non si capisce più niente no ma se non ricordo male noi manco ce l'abbiamo l'incutine vieni qua vieni qua whisky siediti whisky se hai sedi beviti dell'acqua perché alcolici non ne ho una bella incutine e per ora diciamo che la metto qua ok allora ragazzi abbiamo la targhetta per whisky whisky bello te zio oh e ci abbiamo messo la targhetta vieni che ti porto ti porto nella tua cuccia ovviamente la cuccia quella lato casa di lupetta naturalmente perché il regalo è per lei sei contenta lupettina senti forse è crashata vieni qua si grazie per le nicchie guarda 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 che bello vieni qua whisky un po' più in qua eh non rimanere imbambolato vabbè fa come ti pare whisky allora seduto vai a posto ragazzi e ci abbiamo e ci abbiamo il cagnolino per lupetta qua c'è qua c'è la pappa qua non vuoi pappare pappi va bene ah come sei carino vieni qua fatta accarezzare avanti vai bello 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 a posto raga e ci abbiamo quindi whisky in famiglia non solo non solo a parte whisky ragazzi abbiamo anche tutto il necessario per fare una farm di polli mucche e galline e la stessa cosa a parte che sto crashato porca miseria finiamo proprio col crash che è l'ideale vai a volare non è consentito giustamente stavo proprio volando io quindi stavo a dire ci abbiamo possiamo fare la farm di mucche e maiali e galline ok allora mo vediamo qua devo aprire avanti apriti stacchiamo e così entro le cose una cosa alla volta parcheggiamo a posto perché sento uno scheletro ah deve essere là dietro allora qui parcheggiamo i nostri carrellini quindi qua dentro raga abbiamo tutto il necessario per fare appunto una bella farm di polli maiali e mucche in più abbiamo anche carne varie e tutte ste belle cose ma quello che conta è whisky quello che conta ragazzi è che mo abbiamo anche il cane guardate qua l'allarme funziona pure raga ottimo ragazzi quindi direi che per il momento mi fermo qua col gameplay purtroppo ripeto ragazzi lupetta non riesce la sera a giocare purtroppo con la connessione quindi non lo so che vi devo dire speriamo che riesce prima o poi ad entrare senza problemi comunque almeno gli abbiamo fatto un bel regalino e in più ci siamo anche fatti un giro con la moto diciamo col quad quindi ragazzi spero tanto che il gameplay vi sia piaciuto mi raccomando commentate iscrivetevi lasciate un bel pollicione in su vi ricordo che in descrizione trovate un link che vi permette di comprare minecraft scontato vi salutiamo ragazzi ciao alla prossima ciao Ciao!